Confagricoltura ha attivato un servizio che mi rada avvicinare il produttore con il consumatore finale, recapitando presso il nostro domicilio i nostri vini preferiti. In questo caso io mi sono fatta spedire un conegliano gradoviadene superiore di Cartizze di OCG dall'azienda Riva dei Frati con sede a Cornuda per l'appunto in provincia di Treviso. Questo Cartizze che è vinificato nella versione dry, quindi quella con il residuo zuccherino più alto previsto dal protocollo della denominazione disciplinare, non è alto che l'espressione massima del conegliano valdoviadene. Qui siamo proprio di fianco a valdoviadene, nel cuore della regione storica per produttività della denominazione. Quella che è al top della nostra piramide del valore, che vede alla base il Prosecco DOC, passando attraverso il Prosecco DOC prodotto in provincia di Treviso, quindi al conegliano gradoviadene Prosecco Superiore, quindi a quello con la menzione Rive per arrivare appunto al Cartizze che, come dicevo prima, è la zona più vocata con le espressioni più eleganti e meravigliose. Solo in un primo esame visivo possiamo notare che, anche se io l'ho versato da un paio di minuti, basta un piccolo giro per rianimare subito queste bollicine che salgono in catenelle ordinate e sono molto piccole e numerose. Il colore è vibrante, cangiante fra l'oro e il verde. Il naso è un naso estremamente complesso, sempre per la tipologia. I sentori variano dalla frutta, polpa bianca, polpa gialla, attraverso anche una frutta secca quasi, una mandorla finale e un bellissimo fiore, un fiore d'acaccia, un fiore di tiglio. In bocca la complessità è strepitosa. Ritroviamo tutti i sentori che abbiamo avuto il piacere di poter annusare con la degustazione olfattiva, ma la cosa più interessante è questo bellissimo contrasto che si crea in bocca fra la dolcezza e la durezza del vino, a creare un perfetto equilibrio che lo rende un vino ottimo anche degustato da solo, ma perfetto anche in abbinamento con la piccola pasticceria secca e perché no anche delle crostate di frutta fresca o dei semi freddi più adatti alla stagione calda. Io vi saluto prosit da Associazione Italiana Sommelier del Veneto e Confagricoltura.